... ... ... ... ... ... ... Occhio raga! La 2.2! Occhio, sulla 10 sta libera! Baccature! La 11! Fuori, fuori, fuori! Da lì! Sì, sì, sì! Sì, sì! Sì, sì, sì! Davanti, qualcuno! Dai, 2, 2! Dai, 2, 2! La 10! Dai, 2! Dai, 2! Dai, 3! Dai, 3! Dai, 3! Dai, 3! Dai, 3! Dai, 3! Dai, 4! Ancora! 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 Sperma così! Ok! Mani sulla protezione della faccia! Ancora! 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 Ancora!